Averlo pianificato da un pezzo, ormai è così fuori di testa che le farà del male pur di tenermi a pada. Per ora starò al suo gioco, seguirò quell'indirizzo IP, ma troverò il modo di fregarlo. Figlia di Troia, cazzo di affare del merlò. Va bene, Damien, vediamo se ti ha sfuggito qualcosa. Proprio lì. Merda. Ma che... Ehi, sono io! Mi hai chiamata tu! Cazzo. Ho troppe cose in testa. Già. Ok, vieni qui, dai un'occhiata. Lei chi è? Non lo so, il file è danneggiato. Come posso riprodurre questo video? No, è impossibile. Ti serve l'originale. Sto facendo una ricerca sul tuo accesso al CDOS. È di questo che volevo parlarti. Senti, non credo che lui ne sappia nulla. Se ne sarebbe vantato. Di chi parli? Forse lei è un indizio. O no. Devo essere un passo avanti a lui. Sei nei guai? Un indirizzo IP? Sì, me l'ha dato lui. Puoi scoprire di chi è... Cos'è questa storia? Aiden, rispondimi. Non farò niente finché... L'ha rapita, Clara. Sta... sta... usa mia sorella come ostaggio. Oh, cazzo. Quello che hai rintracciato? Sì. Damien. Damien Brantz. Io... Non posso aiutarti. Devo andare. Ne riparliamo dopo, ok? Quando hai finito. Vieni qui. Che succede? Cobre le oreche. Vieni qui. Vieni! Vieni presa! Aiden! Dov'è la tua auto? Di qua Laggiù, sul balcone Aiden, l'insegna del motel Ci sono rinforzi Ecco i rinforzi Userò le telegarie Ripenso io, vai! Non ce la faccio Per me più aiuto Tranquilli, siamo qui Guarda, in strada Guarda, fuoviti! Ci servono tutti i rinforzi Chiamata ricevuta Guarda, eccoci Guarda, vai! Guarda, vai! In posizione 23 Non fermarti, ci siamo quasi Guarda, guardaicken Guarda 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 Pedo Grazie a tutti di qua di qua Grazie a tutti. Ok, vai. Ora! Vai, sali in macchina. Qui ci penso io. Ma cosa fai? Vai via! Vogliono accerchiarci! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Clara, tutto a posto? No, che non è tutto a posto. Cristo, dimmi chi sei. Non so come risponderti. So dove possiamo parlare. Vieni. In tv parlano di una sparatoria al motel Howl. Non fatevi andare via come tutti. Quando mai ho fatto quello che fanno tutti? Era una battuta. Non ci sono più abituato. Goditela. Non capiterà di nuovo. Ho perso la mia rete. Mi serve equipaggiamento. Non mi riguarda. Non hai voluto fare gioco di squadra. È un tuo problema. Cavatela da solo. Ma fai presto. Mi servi concentrato. È bellezza. Tuo fratello vuole parlarti. Aiden. Jax. Jax sta bene. È al sicuro. Dove sei? Non lo so. Fa freddo. Mi hanno tenuta sempre bendata. Ho paura, Aiden. Lo so, Nikki. Vengo a prenderti. Conosco Damien. Non è pazzo. Non ti farà male. Però... Stai attenta. In che senso lo conosci? Mi ha rapita. Lo ha fatto per arrivare a me. Cosa? Tempo scaduto. Oddio. Ma che le hai detto? Poverino in lacrime. Damien. Ripassamela. Se vuoi continuare la chiacchierata, segui l'indirizzo IP e portami qualcosa di utile. Ciao, ciao. Bene. È viva. Carola. È in un posto freddo. Forse è all'aperto. Lo faccio parlare, così forse scopro dov'è. Alommando. È in un posto freddo. Lo faccio história stare顏ktaro, Questo non faцу. È in caller. E' un proizard. Il소� líder è in citizens por fucking terrense Knifuga, e' un il tuo massimamente. Grazie a tutti.